... Appuntamento di lunedì con 100 notizie sport ben ritrovati. Partiamo dalle immagini, quelle della vittoria del Taranto contro il Cerignola. Gianni Sebastio. In uno Iacovone che fa registrare circa 7.000 spettatori paganti, il Taranto continua a vincere. Lo fa anche stavolta in rimonta al termine di una partita bellissima giocata bene dai Rosso-Blu. Uno scontro diretto con il Cerignola finisce 2-1 grazie alle reti di Favetta prima, Diachite poi, entrambe nel secondo tempo che ribaltano il risultato che vedeva il Cerignola in vantaggio grazie ad una rete di Longo. I prezzi popolari e l'entusiasmo che la squadra sta mietendo riescono a far riempire di nuovo lo Iacovone quasi tutta esaurita. La curva nord non mancherà mai l'incitamento alla squadra di Michele Cazzarò. Ci sono anche circa 200 sostenitori giunti per l'occasione da Cerignola. Andiamo alla cronaca, il Taranto in maglia bianca scende in campo con la formazione tipo, ovvero pellegrino tra i pali. Sugli esterni bassi ci sono Bilotta e Ligotti. Torna Miale con la fascia di Capitano dopo il turno di squalifica a fare coppia centrale con Rosania. Galdian e Marsili sono i mediani mentre sulla linea di tre quarti giocano l'Orefice d'Agostino e Ancora. Quest'ultimo tra i migliori in campo, Favetta la punta centrale, l'attaccante di Castellamare di Stabia segnerà il suo primo gol allo Iacovone proprio nei pressi della curva nord. 11 a 1 per la cronaca, i corner in favore del Taranto, questa testimonianza della supremazia esercitata dal Taranto nei confronti del Cerignola. Tre punti importanti per i rosso-blu che adesso sono soltanto una lunghezza dagli ofantini. Andiamo alla cronaca, al quarto minuto c'è il primo tiro nello specchio, lo scocca Cristiano Ancora. Parabagnale. Al decimo minuto Taranto pericolosissimo, c'è una girata di Favetta ma senza fortuna. Il Taranto imprime il ritmo alla partita che è agonisticamente molto valida. Al dodicesimo c'è un cross di D'Agostino per l'Orefice che di destro manda alto. Al sedicesimo Rosania sugli sviluppi di un calcio d'angolo, si fa trovare pronto la deviazione ma la testata è debole. Parabagnale. Il Cerignola si fa vedere dalle parti di Pellegrino. Al diciassettesimo è l'occasione ghiottissima. C'è un cross dalla sinistra di Dicillo per Cara Nante che di testa da buona posizione. Tutto solo manda di poco alto sulla traversa. Il Taranto replica. Al ventunesimo minuto c'è un cross di D'Agostino per Favetta. Stretto dagli avversari gira debolmente. Al ventitresimo c'è una palla a gol per Morra per il Cerignola. Il numero sette giallo-blu tutto solo in diagonale davanti a Pellegrino. Manda al lato pallone che sfiora il palo. Al trentottesimo ancora Taranto pericoloso con un assist di D'Agostino per l'Orefice. La conclusione del numero 15 del Taranto è deviata da Dicillo provvidenzialmente sul primo palo in calcio d'angolo. Sul punteggio di 0-0 si va al riposo. Nella ripresa al terzo subito Taranto in avanti. D'Agostino per Favetta il quale conclude a botta sicura. Ma alle grini difensore centrale Ofantino si immola e respinge. Al sesto il Cerignola però passa in vantaggio. Dialogo morra a Longo. Quest'ultimo si trova a tu per tu con Pellegrino e lo batte incolpevole. L'estremo difensore Ionico. Taranto 0-0 Cerignola 1-0 Gelato lo Iacovone. All'undicesimo il tecnico del Taranto Cazzarò fa il cambio tattico. Fuori un centrocampista Galdean dentro un attaccante Diachite. Il Taranto adesso è a trazione anteriore con il 4-2-4. Al quattordicesimo il Taranto potrebbe pareggiare con Max Marsili. Anchegli tra i migliori in campo ma questo non fa più notizia. Calcio di punizione dai 25 metri a bagnale. Ci mette la punta dei guantoni per deviare tanto quanto basta il pallone che va a stamparsi sulla traversa. E poi torna in campo e finisce in corner. Clamorosa. Palla gol per il Taranto. Al quindicesimo la gara è bellissima. Morra per il Cerignola da buona posizione ma spara alto. Gol sbagliato. Gol subito. Il Taranto infatti pareggia. Al sedicesimo minuto Diachite controlla un pallone per Favetta che non ci pensa due volte. Scarica di destro violentemente alle spalle di Abagnale. Prima rete per Ciro. Favetta allo Iacovone. Terza complessivamente con la maglia del Taranto dopo la doppietta di Aversa. Taranto 1-1 Cerignola 1-1 il boato di gioia dei 7000 dello Iacovone. Al ventottesimo il Taranto passa in vantaggio. Cross di Ancora dalla sinistra. Colpo di testa di Diachite che si mette in mezzo tra Di Bari e Allegrini ma arriva più in alto di tutti. Prende l'ascensore e riesce a deviare di testa alle spalle di Abagnale. Il Taranto ha ribaltato così il risultato 2-1 per il Rosso-Blu. Al trentunesimo esce Favetta. Per lui standing ovation dello Iacovone. Entra Mauro Gori. Si torna al 4-2-3-1. Altra sostituzione al quarantatresimo. Esce D'Agostino Stremato. Autore di un'ottima prestazione. Entra in campo Capua. Le sostituzioni si concludono. Al terzo dei 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, il signor Pirrotta di Barcellona. Pozzo di Gotto tra Juniores esce Lorefice. Entra Portoghese. Al triplice fischio finale l'esultanza dei calciatori tarantini che vanno a salutare con un simbolico abbraccio i tifosi Rosso-Blu. È tornato l'entusiasmo in casa Taranto. Questo anche grazie all'idea della società di abbassare i prezzi e di favorire così il ritorno allo stadio. Domenica prossima il Rosso-Blu giocheranno in trasferta a San Severo. Ricordiamo che con quella con il Cerignola il Taranto ha conquistato la quinta vittoria consecutiva. Quinta vittoria consecutiva guardando un attimo la classifica per quel che riguarda la Serie D che permette al Taranto di avvicinarsi in maniera forte proprio sul Cerignola e di agganciare l'Altamura seppur l'Altamura una gara in meno così come il Gravina. Taranto con 41 punti come detto assieme all'Altamura Cilignola 42 in testa invece c'è il Potenza che ne ha 52, 48 per quel che riguarda la Cavese. Oggi è una giornata importante per quel che riguarda la Serie C, Girone C e per la Virtus Francavilla ma anche per la nostra programmazione. C'è Catania Virtus Francavilla il posticipo. Fabrizio Caganiello le ultime. Un posticipo molto sentito dai tifosi del Francavilla, quello di questa sera contro il Catania. Allo stadio Massimino la formazione allenata da Gaetano D'Agostino affronterà per la prima volta senza Saraniti la vice capolista di questo campionato. Un Catania costretto a vincere dopo l'espload del Lecce ieri sul campo del Rende un Catania particolarmente motivato che affronterà una Virtus inedita. D'Agostino ancora non ha sciolto gli ultimi dubbi rispetto alla formazione che manderà sul rettangolo di gioco. Mancherà il capocannoniere, dunque Saraniti, che in settimana si è spostato proprio a Lecce. In attacco, salvo colpo di scena dell'ultima ora, dovrebbero giocare Viola e Madonia. Questo perché intenzione del tecnico non stravolgere completamente la squadra e non dare subito una chance ai nuovi arrivati. Per questo Parigi, prelevato in settimana dall'Atalanta, sfonda Acragas, dovrebbe partire dalla panchina. Sembra certa invece la presenza dal primo minuto di gioco sul rettangolo verde del Massimino di Lugo Martinez, l'altro nuovo acquisto che però aveva già esordito, seppur per qualche minuto soltanto, nella trasferta di fondi. Martinez giocherà tra centro campo ed attacco. Ed a proposito di questo, non è per niente scontato che D'Agostino scenda sul rettangolo del Massimino con il classico 3-5-2. Starebbe valutando, proprio in queste ore, di mutare che atteggiamento tattico. Per il resto non dovrebbero esserci grosse sorprese. La novità principale, dunque, è rappresentata da Martinez a centro campo, mentre in difesa sarà il retrocesso Agostinone, che farà parte del pacchetto arretrato assieme a Maccarone e a Prestia. Di Nicola dovrebbe rientrare sull'out di sinistra, mentre a destra dovrebbe tornare a giocare Pino sulla linea mediana, che darebbe maggiore copertura. La partita tra Catania e Lecce sarà seguita in tempo reale da Studio 100 TV, a partire dalle ore 20 e 20, in una trasmissione che rappresenterà uno speciale di calcio. La diretta del Francaville e contestualmente andremo ad approfondire con i nostri ospiti studio tutto quello che è accaduto nella giornata di ieri tra Serie C e Serie D. Appuntamento, dunque, su Studio 100 TV questa sera e sul canale Facebook di Studio 100. Eccellenza e promozioni, andiamo a guardare l'eccellenza risultati e classifica per quel che riguarda la Premier League pugliese. Due i pareggi, quello della vetrana 0-0 contro il Corato e poi è arrivato anche il pareggio tra Fasano e Unione Calcio Bisceglie per 1-1. Per quanto riguarda questa partita, Fasano che l'ha passato in vantaggio con Corvino, pareggio da parte di Palumbo per quel che riguarda la formazione dell'Unione Calcio Bisceglie, la penultima gara che vedete in grafica con il nostro Roberto Ingenito. Per quel che riguarda la vetrana, invece, 0-0 contro il Corato, la vetrana che ha fallito un rigore con Cappellini, mentre invece gli altri risultati sono 0-0 tra Bitonto e Molfetta, 9-0 tra Gallipoli e Galatina, vittoria esterna del Casarano 2-0 sul campo del Novoli, 1-0 tra Trani e Aradeo, 2-1 tra Vieste e Omnia-Bitonto, 1-0 tra Otranto e Barletta per una classifica e vede in testa il Gallipoli con 38 punti, 36 il Casarano, Fasano 35 insieme al Bitonto, 33 la vetrana fino al Galatina con 9 punti in classifica. Campionato di promozione, girone A sconfitta per il Martina, 1-0 in quella di Noi Cattaro, una partita decisa dei calci di rigore, Martina che lo sbaglia nel primo tempo, invece poi con Cimino che è stato ipnotizzato da Costantino nella ripresa, e Colella al venticinquesimo a sancire l'1-0 in favore del Noi Cattaro. Pareggio alla fine il Ginosa, 1-1 Salerno porta avanti il San Marco in Lamis, pareggio di La Salandra al 32esimo del secondo tempo. Gli altri risultati, vittoria stena del Polimia 2-1 sul campo del Barletta, 1-1 tra Ascoli Serriano e Altamura, un pareggio pesante per la capolista. 2-0 invece del Real City sul campo dello Spinazzola, 2-0 tra Terlizzi e Bitrito, 4-2 tra Tulli e Grotte e Sporting Gordona, 4-1 tra Vigor Moles e Monte Sant'Angelo. Per una classifica che vede, sì, la Forti Saltamura è in testa, ma raggiunta dalla Vigor Moles a 39 punti. 37 per i Terlizzi, limite i danni il Martina che rimane comunque a sei lunghezze dalla coppia adesso di testa, 33 punti. 32 per il Barletta, 31 Sporting Gordona, 29 per il Ginosa, classifica che si chiude a 12 punti per il Monte Sant'Angelo. Passiamo al raggruppamento B che vedeva il big match di giornata a Brindisi, tra Brindisi e Ostuni, con Ostuni che va in vantaggio al minuto 25 con Misuraka raggiunto 11 minuti più tardi da Tedesco, finisce 1-1. Gli altri risultati, Raka all'esalento football, Leverano 1-1, Tomamaglio Uggiano 4-1. Il Tricase riesce a battere il Tassano 1-0, una vittoria importante contro il Tassano per il Tricase, con Leo Pizzi che ha sancito il gol partita. Lo capiremo tra pochissimo perché è importante la vittoria del Tricase. Vince fuori casa il Mesagne, 1-0 sul campo del Carovigno, grazie alla rete di Camisa. 2-2 tra Copertino e Sava. Vantaggio, anzi questa è la successione delle reti, Sacco di Bartolomeo, rigore di Pellè e poi al quinto minuto di recupero di Pietro per il Sava. Perde il derby contro il Massafra, il Massafra perde il derby contro il Lizzano per una rete a 0, la rete, anzi per 2-0, rete di Beltrame e Colucci, quindi 2-0 tra Lizzano e Massafra. 1-1 tra Uggento e De Ghirecce e come detto 1-1 tra Brindisi e Ostuni. Per una classifica che vede il Brindisi ancora in testa alla graduatoria sempre con un punto di vantaggio sullo Stuni, 43-42. 37 il Tricase che si riavvicina alla coppia che sta lottando per la promozione in eccellenza. 34 per il Mesagne e 31 il Maglie. 30 per Racale e Uggiano, 28 il Lizzano, 24 il Carovigno, 23 Salento Football e Leverano, 20 punti per De Ghirecce e Talsano, 19 copertino, 17 Uggento, 9 Sava, 6 Massafra. E adesso i nostri sunti per quel che riguarda il basket. Partiamo proprio dalla palla spicchi. Continua la marcia salvezza di Brindisi nel campionato dia 1. La squadra di Vitucci conquista il successo numero 200 in Serie A, battendo per 88 a 74 Pistoia. E adesso vanta anche un più 8 sui Toscani in caso di arrivo a pari merito. Brindisi va sotto nei primi due parziali, 21-20 e 44-39. Poi firma il sorpasso con uno strepitoso Murra, autore di 21 punti, e con Lalanne, autore di 12 punti. Nel terzo quarto si va sul 72-63, poi 88 a 74 in favore di Brindisi. Per quel che riguarda il campionato di C-Silver, invece, c'è l'allungo di Ceglie in testa. Infatti la formazione di Ceglie riesce a superare in casa per 96-82 Manfredonia. Corato cade ancora fuori casa. Monteroni 66-66 a 60 e viene agganciata da Monopoli, che si impone a Castellaneta con il punteggio di 79-66. Gli altri risultati. Mola vince contro il Cusionico 80 a 71-71. Vittoria di Ostuni su Santeramo 81 a 66. Francavilla cade ad Altamura 78-78 a 68-68. Martina, invece, cade ancora contro Ruvo e ancora in casa per 81-53. Operazione aggancio riuscita per quanto riguarda, invece, la Santa Rita Taranto, che batte 79-79 a 68 in trasferta a Lecce, mentre, invece, a P-Monopoli cade clamorosamente in casa contro Brindisi. La Dinamo si impone per 77-77 a 71. 26 punti per Santa Rita e Monopoli, con la P-Monopoli che però ha il vantaggio dello scontro diretto. Gli altri risultati. Mesagne vince 68-53 in quel di Calimera. L'Invicta Brindisi cade in casa contro Bari 70-59. Francavilla, invece, perde in casa contro Rutigliano per 65-56. Fermi i campionati di volley. Passiamo adesso al futsal. Nel campionato di serie A femminile, il Riastate riesce a cogliere un punto pesante in quel di Montesilvano. 2-2 accade tutto nella ripresa. Amparo porta avanti la formazione abruzzese, ma viene raggiunta dopo un minuto e mezzo da parte di Mansueto. Sorpasso rosso-blu con Oliveira al 14esimo. Inserimento del portiere di movimento da parte del Montesilvano, che firma il pareggio a tre minuti dalla fine con Bruna Borges. Nel campionato, invece, di A2 femminile, pesante vittoria del Città di Taranto, che batte per 1-0 il vittoria con un gol di Cardolini Rizzo. Nel campionato di serie C femminile, vittoria importantissima della capolista Athletic Club Taranto, che allunga sulla seconda in classifica. Infatti, Molfetta viene battuta per 4-0. Pessante sconfitta, invece, nel campionato di B maschile della New Taranto contro Marigliano. Troppo forte la capolista. Finisce 12-2. Grazie, Roberto Ingenitore. In regia è tutto. Buon prossimo momento con i programmi di Studio 100. Arrivederci. Buon prossimo momento con i programmi di Studio 100.